Musica Mercoledì 11 gennaio, San Alessandro di Fermo e l'undicesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 354 alla fine Il sole sorge alle 7 e 48, tramonta le 16 e 49 La luna si leva alle 16 e 09, tramonta le 6 e 21 Tionfale arrivo del neodoge Francesco Morosini che torna dalla Morea Per prima cosa scesa dalla nave Morosini depone le insegne di capitano generale da mar Grandi festeggiamenti sono stati preparati in suo onore Sorgono in piazzetta un arco trionfale alto ben 40 piedi e due fontane che buttano vino Le previsioni per domani Graduale peggioramento con cielo fino a molto nuvoloso in pianura dal pomeriggio Sulle zone montane alternanza di schiarite specie al mattino e nuvolosità più frequente verso sera Precipitazioni assenti per gran parte della giornata Verso sera probabilità medio-bassa di deboli precipitazioni nevose fino a quote basse a tratti anche su alcune zone pianeggianti Temperature stazionarie in locale aumento Gerate diffuse specie nelle ore più fredde anche in pianura Nuo 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 Nuo